Si è svolto presso la parrocchia San Giuseppe Maria Tomasi il seminario dal titolo C'è un futuro per questa famiglia, organizzato dal gruppo Azione Cattolica Italiana, gremito di gente il salone parrocchiale Falcone Borsellino, dove sono stati aperti i lavori dalla vicepresidente adulti di Azione Cattolica Vera Bonelli, seguita da padre Totino Licata, parroco della parrocchia che ha ospitato l'evento, nonché dall'avvocato Giuseppe Glicelio e dal consigliere diocesano Ida Carmina. La famiglia è stato l'argomento protagonista dell'incontro a cui ha partecipato anche il presidente parrocchiale di Azione Cattolica Giuseppe Mugnos. Intanto il seminario è stato arricchito dalla Santa Messa, ma anche da un ulteriore programma che ha previsto l'accoglienza presso il locale porto turistico e la visione di un film sul tema in questione presso il Fly Cinema. La fine delle attività hanno previsto anche la partecipazione all'animazione della band del gruppo di Azione Cattolica presso la palestra della scuola Guglielmo Marconi. Grazie. Grazie.